Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nostro nuovo video su Miraculous Love Vabbè comunque ragazzi prima di fare la cosa che faremo oggi cioè andare ad aprire il magazine di marzo di Miraculous che non abbiamo ancora aperto perché tanto noi siamo sempre di tardatari e lo saremo sempre e vi volevamo parlare un attimo di una cosa molto importante praticamente negli ultimi tempi ragazzi non abbiamo fatto video cioè abbiamo fatti ma tipo usciva il video ogni mese uno al mese usciva al posto che prima si metteva un video su youtube ogni 1-2 giorni cioè differenza infatti abbiamo avuto un piccolo calo di iscritti che poi ha aumentato e poi ha diminuito e poi ha aumentato un casino ragazzi e ragazzi per dei piccoli problemi che abbiamo avuto comunque quindi per favore ragazzi cominciate ad iscrivervi e scusateci se non guardiamo più i vostri video ma abbiamo avuto dei piccoli problemi come sapete e ancora oggi li abbiamo un po' quindi già se riusciamo a fare video è una cosa buona quindi scusateci tanto non disiscrivetevi e mi raccomando quindi dico iscrivetevi lasciate like condividete il video con tutti i partiti Miraculous che conoscete e attivate la campanellina come sempre quindi ragazzi oggi andremo a aprire il magazine di marzo di Miraculous naturalmente come sempre noi lo ridico siamo ritardatari perché come sempre perché tanto cioè dobbiamo aprire il magazine di marzo dobbiamo aprire perché tanto se no non andrebbe bene no quindi ragazzi andiamo a aprire questo magazine e bene quindi nella copertina di questo magazine vediamo sia Ladybug che eccola qua Tiki e Chat Noir e meno male c'è Chat Noir perché cioè è rarissimo trovarlo sulle copertine perché tanto cioè non frega nessuno di Chat Noir Ladybug si prende sempre tutto il merito comunque e cominciamo a sfogliarlo insieme alla pubblicità che non ci interessa una virgola e poi vabbè qua abbiamo ragazzi il nostro sommario quindi giriamo qua ragazzi ci sono i nostri primi giochi sulla Tour Eiffel bellissimi cioè 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 bellissimo anche questo bellissimo tutto bellissimo quindi giochi poi i nostri bellissimi fumetti bellissimi bellissimi adoro adoro soprattutto disegni perché sono fatti benissimo e questo è dell'episodio risposta dove Katami viene atomizzata però sì con la ledre è bellissimo cioè ragazzi c'è le ship le ship sono bellissime le ship sono bellissime lo lo dico lo lo dico tante volte poi sbagliamo ancora e troviamo i braccialetti dell'amicizia di Alia e Marinette e qua c'è anche Tiki comunque e qua ragazzi vi fa vedere vabbè vi da tutte le istruzioni come fare e vabbè tutte le cose per costruire questi braccialetti e cosa vedo qua ragazzi c'è il nostro bellissimo Chat Noir il nostro amore che ci contendiamo da sempre perché tanto è bellissimo e tutti rimamiamo bellissimo e vabbè il poster e qua c'è il contenuto del poster di Chat Noir e qua abbiamo ragazzi abbiamo la ricetta delle crepe che sono dolce tipico francese buonissimo cioè praticamente io lo prendo quasi cioè se non prendo il gelato prendo la crepe ecco con qua Marinette qua ragazzi abbiamo altri giochi un messaggio per te e trova le differenze io le ammazzo lei io le ammazzo lei le ammazzo io le ammazzo Chloe le ammazzo un altro fumetto con dove vediamo Robustus quell'episodio in cui Mark veniva atomizzato per via cioè scusate dove veniva atomizzato il robot di Mark sì tutto così vabbè comunque andiamo avanti vabbè il fumetto il fumetto il fumetto il fumetto qua ragazzi ci sono le vostre bellissime foto e i vostri bellissimi disegni e naturalmente è tutto bellissimo grande lei grande lei questo grande lei bravissima Greta poi c'è Natasha Anna Ginevra poi c'è Gaia Melissa Elisabetta Aurora e tanti altri e vabbè ragazzi siamo giunti alla fine di questo magazine e qua ci sono tutte le soluzioni di giochi con Rena Rouge che non si vede praticamente mai sarà comparsa due volte nel Miraculous neanche e ragazzi qua vi fa vedere il prossimo magazine che sarà di Ladybug con Rena Rouge quindi fantastico anche quindi bellissima e qua vi fa vedere il gadget che ci sarà in edicola dal 15 aprile però ragazzi che cosa c'era che gadget c'era nel magazine di oggi andiamo subito a scoprire allora praticamente ragazzi nel magazine oh mamma di oggi scusate c'era questo coso che è tipo un nastro guardate e c'era questo nastro molto strano perché non ho capito che cosa ha a che fare con Miraculous il nastro forse Ladybug avrà in futuro un nastro per sconfiggere il male scoprindolo nel prossimo episodio di Miraculous se ci sarà si naturalmente ci sarà però mi sembra una cosa molto strana questo nastro è molto strano e vabbè qua c'è Ladybug scritto Miraculous e qua sta rosa che non capisco il senso però comunque ragazzi è così no? tutte le cose strane perché tanto Miraculous è strano quindi comunque dopo aver aperto il magazine e questo coso strano io vi ridico di nuovo di iscrivervi al canale lasciare like attivare la campanella e condividere il video e quindi ragazzi al prossimo video e se ce la facciamo per la fine di aprile di aprire anche il magazine di aprile che dobbiamo però ancora comprare quindi ragazzi ciao iscrivetevi